No, di quando non c'è il compito, non si ripete la votazione che non si sbagliava gli sfruttatori. Quindi che la professione consiglieri comunali di rimanere seguiti e di prestare attenzione alla votazione. Per dichiarazione di voi non contiene bene. Allora, io voglio fare esplicemente la sua relazione di voi. Il padre dei valuti, il suo capo, si assiene in quanto, nel suo punto che probabilmente è un atto dovuto, viste comunque le caratteristiche di dalle nostre tessere dall'Ender, si richiede, il padre dei valuti, richiede di marcare la propria differenza e la propria responsabilità con un voto di assenza. Allora, grazie. Ripetiamo la votazione. Chi resta seduto a prova, chi si andrà a prova. 19 voti a favore. 5 asseduti e 1 a contrario. Il capo, questa parte lanta. Si ripete quando rite con la vostra convocazione. Allora, il capo, come si ripete quando rite con la vostra convocazione. Nel capo, la vostra convocazione. Come si ripete quando rite con rite con un poernékine. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti